Al grande fratello VIP spirano decisamente venti di tempesta. Dopo l'uscita a sorpresa di Maria Teresa Ruta, si sono sconvolti gli equilibri della casa e alcuni VIP-poni come Giulia Salemi e Daiane Mello hanno ritenuto Tommaso Zorzi unico responsabile dell'eliminazione di Maria Teresa Ruta. Dopo la puntata di ieri sera gli animi nella casa erano esacerbati e, complice la stanchezza, sono volati stracci fra Tommaso e Giulia, i cui rapporti sono tesi da tempo. Ad un certo punto Tommaso è sbottato e ha tentato di uscire dal grande fratello VIP attraverso la Porta Rossa. Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si sono precipitati a bloccarlo, ma nell'agitazione del momento Tommaso pare abbia spinto via Pierpaolo in malo modo. Sul web scoppia la polemica quando alcuni fan, appunto, fanno notare come Tommaso abbia spintonato Pierpaolo. A confermare questa versione c'è un video in cui lo stesso influencer milanese ammette, la mattina dopo, di aver lanciato via il ragazzo di Giulia Salemi. Andrea Zelletta e Samantha De Grenet fanno notare a Tommaso come il suo non sia stato un gesto carino e che magari sarebbe il caso di scusarsi con lui, ma quest'ultimo risponde deciso, no, no, no.